Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare nel tratto al chilometro 79 direzione Livorno. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone e del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano e sulla statale 64 Porrettana chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!